E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo ottavo episodio della serie di Marvel Avengers Nello scorso episodio siamo andati con Tony Stark a recuperare la fonte di energia che perlomeno sembrava essere quella che ci sarebbe servita per riparare l'aliveivolo, la chimera Però abbiamo scoperto che si trattava di un reattore ARC, di una copia del reattore ARC che ha inventato appunto Tony Stark stesso Per il bene della città abbiamo deciso di distruggerlo perché entrando, violando i sistemi dell'AIM si era innescato un sistema di autodistruzione che avrebbe distrutto non solo la serie dell'AIM ma anche diversi solati a sé Tuttavia in principio Jarvis aveva individuato due possibili fonti di alimentazione della chimera e di conseguenza adesso stiamo andando con Miss Marvel e con Hulk a cercare la seconda Che speriamo sia quella giusta perché altrimenti non so minimamente come possiamo farla andare Forse prendiamo delle ciclette, ci mettiamo Hulk tutto il giorno e la chimera vola da sola Detto questo direi che possiamo subitamente iniziare Ok ragazzi, conto su di voi per quella traccia termica Con un po' di fortuna recupereremo dei nuclei di avviamento Presto l'AIM individuerà la posizione della chimera Senza una base operativa Beh, non avremo molte speranze Quindi Non deludetemi E... Buona fortuna? Ah... Una bella responsabilità No, eh... Beh, in effetti Ok Non devo deludere il signor Stark Jarvis Da dove inizio? La traccia termica è composta da diversi punti intorno a un grosso nucleo centrale Il che suggerisce una concentrazione di potenziali nuclei di avviamento Dovrebbero essere in un unico luogo Una struttura, forse D'accordo C'è un baule con dell'equipaggiamento nelle vicinanze Ok, allora, nel frattempo io sono andato anche un po' in giro Cercare di potenziarmi Miss Marvel Perché questa missione in realtà è al 14 E Miss Marvel ce l'ho al 4 Quindi non so bene come riusciremo ad affrontarla Ora, per fortuna c'è anche Hulk Però, insomma Io al momento ho un po' di casse che stanno in giro Me le prendo, per esempio Questa è un broma che abbiamo appena preso Quanto è? Sempre al 4 Però dobbiamo anche potenziare un po' di Miss Marvel Abbiamo un'abilità possibile Il punto R2 per eseguire il pugno Prendere le genti e spararle contro gli altri Ecco, questo potrebbe essere utile Perché comunque andando in giro mi sono reso conto Che non ci sono solo le casse che vengono segnalate Ci sono anche delle altre casse arancioni Non so se avete fatto caso al fatto che ci sono casse arancioni e casse azzurre Per esempio qua ce n'è una, esatto Che hanno altre cose Non per forza pezzi di armatura Non per forza pezzi di armatura però Spesso anche quelli È una mia impressione Hulk sembra diverso dal solito Sembra che il dottor Banner Faticchi ad accettare la morte del nostro amato capitano Signorina Khan Dai suoi appunti è tornato sulla chimera Per sistemare gli eventi delle idee Invece È divenuto sempre più frustrato Per quelli che reputa Suoi fallimenti Oh Ma certo Bruce si sente in colpa Come tutti Signorina Khan Ho trovato un deposito nel settore 12 Lo distruggo Esatto appunto E come avevo detto Secondo me Il senso di colpa di Bruce È uno degli elementi principali di questa storia Già per il fatto di aver Dichiarato ufficialmente davanti a tutti Che gli Avengers sono un pericolo per la società Quando In realtà sì Da una parte ci potrebbe anche stare Ma Dall'altra Il reattore sì Era un po' instabile Però comunque Il vero responsabile Di tutto il casino Che è successo Era il Dottor Tantan Che tuttavia è uscito in colome Soprattutto però Il senso di colpa Sta nel fatto Che tutto questo casino Ha provocato la morte di Cap Che è diciamo Il male peggiore Di tutto quello che è successo Dobbiamo andare a cercare i nuclei qua C'è qualcuno Sembrerebbe di no Qua hanno distrutto il nucleo Sbrighiamoci Sull'interfaccia trova la posizione del prossimo nucleo Versaglio in vita Qua non è Hulk Ci servono rinforzi qui Non mi piacciono Chi è sta dentro Ah sì Questi li conosco Questi qua li conosco Li ho già visti Cioè li conosco per Agents of Shield Sempre È un'organizzazione Che comunque Ha sempre a che fare Con gli inumani Quando si parla di inumani Generalmente scappano fuori Anche questi Però Vedete che mi sciolgono È un'organizzazione Anti inumani Molto semplicemente Un'organizzazione Di estremisti Terroristi Anti inumani Oh porca Questi volanti Sono quelli più fastidiosi Porca miseria Ah già io mi dimentico Sempre che Kamala C'ha questa mossa Che gli recupera Tutta la vita Vai Ucchino Le finisher Sono veramente belle Comunque In questo gioco Non hanno Un'utilità Particolare Però Sono belle Ah Mi hanno ostacolato Non posso schivare Scattare O Non mi ricordo Che altro fare Ma non volevo prendere lui Però va bene Ci sono un po' di mosse Che si vaggano Ogni tanto Quelle pesanti Specialmente Non hanno tracking È Hulk Però È un po' inutile No Hulk Sta crepando Porca miseria Guarda se ci vuole Anch'io È Hulkino È Che pretendi però È Ma Hulkino È Dai Rimasto l'ultimo Fai Siamo Hulkino Qua È da sola Quanto pare Non ci riesce Mannaggia le pippe Vai Hulkino Fai la finisher Bravo Oh livello 3 Dello shield A questo punto Abbiamo cercato ovunque nel deserto E non basterà Sono sola Cosa? Dove sono gli altri inumani? Perché non si stanno ribellando? Io Non lo so Ho visto i simboli della resistenza Ho sentito voci di una ribellione Ma ancora niente Io non mi sento malata Non mi sono mai sentita più viva Se sbagliassi So come ci si sente Questi poteri Fanno parte di noi So solo che È molto meglio accettarli e basta O qualcosa del genere Mio padre diceva la stessa cosa Beh Lui è Un tipo sveglio Il migliore Dobbiamo Tornare alla chimera Ok Fermi dove siete E dai Amico Una ragazza e un vecchio Un vecchio Ok Pim vi riceverà Che? È Hank Pim? Incredibile Hank? Bruce Cosa ci fai qui? Potrei chiedertelo anch'io È bello Anche per me Kamala Questo è Hank Pim Huntman? Ah Quella ormai È acqua passata Seguitemi Ok Quindi è questa La fonte termica Che cercavamo Abbiamo recuperato Armi Robot Tecnologia IM Il necessario Per costruire Le nostre difese Potresti Prestarci Qualche nucleo Di avviamento Per Aiutare Un eleverivolo Bisognoso Di affetto Immagino potremo Metterci d'accordo Ti ringrazio molto Che cos'è Questo posto? Lo chiamiamo Il formicaio Oh Non l'ho scelto io Credo sia stato Un nostro hacker Un certo Tiny dancer Aspetta Quindi Quindi sono tutti Inumani Sì Molti erano Prigionieri Dell'Aien Si sono Ribellati Davvero Fate come A casa vostra Dobbiamo Parlare Un po' Questo luogo È più Di quanto Immaginassi Ok Quindi tutti Ghinumani Sono qui Nel formicaio Sotto la guida Di Hank Pym Che tra l'altro Non so se Gli stacco Dal fumetto Dalla storia originale Sia quello del film Di Ant-Man O di questo qua Perché nel film Hank Pym È anziano È L'Ant-Man originale Ma poi Diciamo In contemporanea Col periodo Degli Avenger Diventerà poi Il mentore Di Scott Che è L'Ant-Man Attuale Vedete i simboli Sono quelli della resistenza Che abbiamo trovato Lungo tutto il percorso Finalmente abbiamo trovato La loro base E qui dobbiamo parlare Con una certa Sara Che è questa Ah Sei l'amica Del deserto di Pym L'AIM Ti ha mandata qui Per spiarci? Cosa? No Sto scherciando Ho installato Delle telecamere Nei Mac distrutti Che c'erano nel deserto È stato divertente Guardarvi fare il culo Ai cani da guardia Grazie Io sono Sara Garza E ci sono già Parecchie voci Sul tuo conto Buone voci? Puoi dirlo forte Ti vogliamo in squadra Se hai del tempo libero Ho parecchie cose da fare Ehi Mi farebbe comodo Ok Questa è la rappresentante Invece dell'alleanza Inumana Anche lei c'ha le taglie Noi ce le prendiamo Tutto tanto Sono gratis Sei la mia salvezza Potresti controllare In quel baule Dietro di te C'è del nuovo equipaggiamento Che non ho ancora avuto Il tempo di guardare Certo Ottimo Il nuovo equipaggiamento Ci serve Perché Kamala È molto vasto di livello Abbiamo 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 Niente Materiali Ottimo Se magari ci dessero anche Dei pezzi Di armatura Per la nostra Kamala No eh Va bene Dove dobbiamo andare adesso? Sempre di da Sara Cos'è che possiamo trovare? Ah Roy Modello Abbiamo capito Gli eroi Modello Salve Nuovo cliente Ha bisogno Dei miei servizi Scusa scusa Stavo solo guardando Perdonami Il suo scrutinio visivo Non mi disturba Ogni traccia del mio passato È stata cancellata Per motivi di sicurezza Oh È un po' Un po' triste La mia programmazione È tutta inefficiente Provare attaccamento A tali ridondanze Ora Solo le transazioni Mi recano gioia Quindi Più compro Più sei felice Corretto Sono qui per servirla Ok Mercanti di equipaggiamento Mercanti di equipaggiamento Possono essere trovati in avamposto E offrono In ogni avamposto E offrono Una selezione di oggetti In cambio di frammenti In modo di potenziamento Stessa cosa del Del mercante Che abbiamo lì Sulla chimera Solamente questo qua È dell'alleanza inumana Quindi a pezzi diversi Comunque ho visto Che Per comprare Certe cose Ci serve Ci serve Un tot di grado Di alleanza Per esempio Per comprare Adesso Aspettate Mi serve Qualcosa Per cui ho Abbastanza risorse No Per comprare Questo Niente Però volevo Comprare Per esempio Qualcosa Dal Rappresentante Dello shield E mi diceva Che dovevo avere Un livello Di Di alleanza Insomma Più alto Di quello Che effettivamente Ho e quindi Non potevo Mi sa che No Allora Al momento Lascio così Poi torniamo E ci prendiamo Con i bracciali Perché sono molto Comune Non spaventarti Ma la dottoressa Medicio Vuole vederti Nel suo ufficio Cosa La dottoressa Medicio Sono io Passa al laboratorio E ti darò un po' Di cose interessanti Chiama Madame Curie Ma chi sei Oh Chiama Madame Marie Curie Speriamoci Dà qualcosa Di veramente Interessante Oh lì c'è qualcosa Che sbirlucci Cassa dorata Wow Cassa dorata Per delle bande Normalissime Fantastico Yuhuu Accidenti Ma guardati Mi piace il tuo stile Io sono Meddy Biogenio del luogo Non dire a Pim Che l'ho detto O a Banner Il tuo segreto È al sicuro con me Mi hai Chiamata nel tuo ufficio Sì Non sarò un'inumana Ma gestisco Equipaggiamenti Merci e gadget Se ti serve qualcosa Per essere più veloce Forte o allungabile Farò al caso tu E tu cosa ci guadagni Che sarò più intelligente Di tutti Portami i materiali giusti E ti costruirò Dell'equipaggiamento Da far piangere L'IM Ho già alcuni Prototipi Da pure un'occhiata E qui Vediamo un po' Ah vabbè Sono sempre pezzi In realtà È la stessa identica cosa Solamente che ci dà altri pezzi Per esempio Qua abbiamo un emblema E basta Perché non c'è altro Va bene Come al solito Io aspetto Perché Non abbiamo abbastanza robe Incredibile Ho già l'acquolina in bocca Posso aiutarti per qualcosa Al momento no Ma potresti aiutare Pim Con un problemino Controlla il tavolo strategico Ti spiegherà lui E tavolo strategico sia Ok Andiamo al tavolo Oh Sare missioni iconiche Anche per questa Così almeno Volendo possiamo potenziarcela Andiamo al tavolo strategico Che è qua La resistenza ha scoperto Una struttura di ricerca Sugli inumani dell'AIM A Venture Ridge Nel Wyoming Al dottor Pim Serve che gli Avenger Facciano irruzione Nella struttura Per trovare prove Dei misfatti dell'AIM Ok Va bene Allora direi di andare subitamente Anche se Sono un pochino più alti Ma non ci interessa ormai Ok Ora che abbiamo un po' di muscoli Dalla nostra Credo che dovremmo colpire Uno dei laboratori di test dell'AIM Sappiamo che stanno sperimentando Sugli inumani In piccole comunità rurali Vorrei mettere le mani Sulle ricerche Che stanno compiendo D'accordo Abbiamo già distrutto Uno dei loro grossi laboratori Nel nord ovest pacifico L'archivio di Olimpia Notevole Ci chiedevamo Chi fosse responsabile Della chiusura Di quel laboratorio Grazie Non abbiamo ottenuto Molte informazioni Ma forse ora Potremo trovarne di più Ok Possiamo selezionare l'eroe Proprio senza dubbio Andrei con Iron Man Che è decisamente più OP Benvenuti a Venture Ridge Nel Wyoming Questo era uno dei numerosi centri Di detenzione AIM Per inumani Prima che costruissero la prigione Dopo il trasferimento Buona parte dei residenti Sono stati evacuati In città incontrerete Principalmente pattuglie dell'AIM D'accordo Occhio alle pattuglie dell'AIM Non vi accoglieranno A braccia aperte Con un po' di fortuna Potremo ottenere informazioni E fare luce Su quello che stanno facendo Agli inumani Vi ho segnato la struttura Sull'interfaccia Attenzione alle pattuglie Ok Grazie mille Abbiamo dei punti abilità Non spesi Fermi tutti Allora prima spendiamoli E poi continuiamo Tuffo potente Questo qua potrebbe essere Molto comodo Questo qua invece cos'è? Attacco montante a propulsori Che è l'equivalente Di quello che abbiamo per Kamala Razia ricerca Non mi interessa più di tanto Assalto con repulsione Queste sono le comodo Facciamo tuffo potente Ok Quindi stiamo entrando Proprio nel cuore Dell'alleanza inumana Ok Ok c'è un tipo grosso Prima io andrei al baule Aia 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 Non so se possiamo Per esempio Quella porta che è chiusa Non so se possiamo poi Utilizzare qualcun altro Per aprirla Farla aprire direttamente Da qualcuno No Non funziona Boh Non so Non me lo Non me lo aprono qua Penso che dovremmo andare Con qualcun altro A sto punto Ok Non è andata come previsto Se distruggete i due trasformatori A livello superiore Le porte dell'attensore Dovrebbero aprire Qualcuno sta tenendo il conteggio Perché mi sa che sto vincendo Arca miseria Ha funzionato Entrate Eri prigioniero anche tu E ti avevano catturato Se non eri un inumano Secondo Tarleton Chiunque abbia dei poteri È una minaccia Si sono assicurati Che non usassi più i miei Hanno modificato il mio fisico E ora cambiare dimensioni Mi ucciderebbe Mi dispiace Quindi a quanto pare Hank Pym Non può più diventare Ant-Man Devo capire Perché a quanto pare Non si può nemmeno Cambiare personaggio Durante la missione Che è un po' scomodo In realtà Perché per esempio Come faccio io A sbloccare queste porte Che sono chiuse O mi rifaccio la missione Aia Sicuro che sia il luogo giusto Ho quasi penetrato La rete dell'AIM Nascondono qualcosa Aspettate e occupatevi Delle forze nemiche Ah ce ne occuperai Ciao robotone Se si facessi così Gli levo lo scudo No Precisamente no Pensavo che con le MP Potessi levargli lo scudo Invece no Però devo assolutamente Levare la torretta Ok Ok senza torrette Questo non dovrebbe essere Più un grosso pericolo Invece si C'ha il laterone E porca miseria Sto per crepare Della vita Della vita Della vita Ah probabilmente C'era uno di quelli Che hanno ucciso Gli altri due Che dava una sorta di scudo A gli alleati Facca miseria Faccio l'attacco pesante E me lo fa con il razzo Sì ok Però ho finito la La barra dell'energia Vai 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 C'è la La finish E c'era una finisher Non so come Come le impediamo di decollare Non so se è possibile Ma potremmo provare a modificare La destinazione del trasporto Ottima idea Vedi se riesci a riprogrammare La sua destinazione Verso il formicaio Beh come dice Sembra che abbiamo fatto in tempo Fatemi accedere A uno di quei terminali Dovrò controllarli Tutti e tre Per bypassare I suoi sistemi di navigazione State in guardia L'AIM cercherà Di riprendere Il controllo Dei punti d'accesso Devo semplicemente Farlo caricare No? Sì Ok Sicuramente comunque Da giocare in coppa È molto molto più facile Ma veramente È molto più semplice Perché Ci si può gestire Molto meglio Per esempio Là mi stanno rubando Un punto d'accesso Se fossimo in due Potrei impedirglielo Non andare su B Un'unità AIM ha ripreso Il controllo Di un punto d'accesso Ma? Ma? Aiuto Non l'avevo visto Devo pure reanimare Miss Marvel Ma io boh Che fa? La reanima Hulk? Hulk Baster Subito Subito Che è successo? Sì signore Ma noi Ok Perfetto Già dovresti pure Fatta un caffè Per mali finire Tutto quanto In quegli 0,4 secondi Ottimo Ok Ricompensa delle fazioni Disponibili Entriamo subito Nel portalone Gigantone Ah no Siamo venuti Nel portalone gigantone Questo Non mi interessa Allora La dottoressa Ciò Ci ha detto che Intanto C'ha qualcosa Per noi Come sono simpatico Mi vuoi dare Ok Grado fazioni aumentato Sono arrivato Il grado 3 Ma ha dato un sacco Di frammenti 2 euro Ok 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 Allora Vediamo Abbiamo 932 frammenti Io però Questo è al 12 Ed è meglio Però mi andrei A prendere Invece Beh La resistenza Non è d'accordo Per niente Grazie Va bene Dovrei andarmi A prendere Dicevo Le braccia Che c'è Uh che è successo Le braccia Che voleva darmi Il robottino Prima voglia Andarmi a prendere Sì allora Signor robottino Mi dia Queste qua Grazie Gentilissimo Adesso me li metto Subito Abbiamo anche Un punto abilità Allora Passiamo da 5 A 12 Direi che C'è un piccolo Miglioramento Poteri del fuoco Che forza Ehi Tutto bene? Sto bene Beh i poteri Cioè Sembrano fantastici Io sono Una polimorfa Credo È forte E posso Allungare le braccia Tipo Sto Sto ancora provando A non sembrare stupida Ma Sei inumana Sei inumana Sì Come ti chiami? Dante Kamala Che ti è successo? Mi sono rotto una gamba Mentre scappavo Oh Beh Almeno ce l'hai fatta No? Mia madre mi ha aiutato Sì Io ce l'ho fatta Ma lei è stata presa Beh Aspetta lascia che ti aiuti No Non capisci Siamo inumani A nessuno importa di noi No Questo non è vero Devo dirlo a Bruce Potremmo fare qualcosa Beh però non ha tutti i torti Alla fine La visione che il mondo ha degli inumani È questa È vero che nessuno Gli importa di loro Roi Per favore È necessario che mandi una spedizione Alla chimera Con qualche probista E Roi Attento Sii discreto Chiaramente dottore Devo dirlo È È proprio geniale Ehi Hai un minuto? Ah Sì Sì Che succede? L'AIM sposterà gli inumani In un luogo più sicuro Presto Ok Hai parlato con Dante? Scusate Chi è Dante? Uno degli inumani sopravvissuti Siamo riusciti a tirarlo fuori Ma sua madre è ancora là dentro E dopo la nostra fuga L'AIM ha aumentato la sicurezza Capisco Sentite Dobbiamo aiutarli Non è una buona idea Cosa? Ci sono degli inumani lì dentro Non capisco La madre di Dante Non possiamo starcene qui E non fare niente Non ce ne staremo con le mani in mano Ok? Lei è appena partito con i nuclei energetici Quindi Tony arriverà qui tra meno di un giorno Basta Solo aspettare Non riesco a capire Non abbiamo ulti Kamala La resistenza sta provando a infiltrarsi in quella struttura da mesi Noi siamo stati aiutati È più facile uscire che entrare Da terra le mura sono inespugnabili Hai visto cosa abbiamo fatto prima? Posso aiutare? È troppo pericoloso Non capisci Tu non sei un inumano Non ora Mi spiace Aspettiamo Mi spiace Non posso Ok qui Kamala sta per uscire di nascosto nel formicaio Ma lo faremo nei prossimi episodi Perché per questo può anche essere tutto Devo dire che Non mi sta parecchio simpatica come protagonista Kamala Cioè è una ragazzina Sì vabbè certo Però è veramente Cioè ha dei comportamenti molto infantili Viene caratterizzata proprio come Ragazzina ragazzina Quindi insomma Non mi fa proprio impazzire Andiamo ad aprire subito questa cassa E detto questo ragazzi Direi che se il video vi è piaciuto Lasciatevi commentate e condividetelo Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E attivate la campanellina Per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita E detto questo Ci vediamo alla prossima Ciao Siamo la tua salvezza